La chimica non è né buona né cattiva. È utile, ma alcune sostanze possono essere dannose per l'uomo o per l'ambiente. Per questo l'Unione Europea ha il Regolamento RIC, la normativa sulle sostanze chimiche più rigorose al mondo. Dal 2018 ogni sostanza avrà la sua carta d'identità. Se importi o produci sostanze chimiche, entro il 31 maggio 2018 hai l'obbligo di registrarle. Regolamento RIC. Più sicuro l'ambiente, più sicuri noi. Grazie a tutti.